Buongiorno agli amici di Ante.it, iniziamo questo fine settimana con un amico che ritroviamo dopo tanto tempo anche perché lo sappiamo è il suo reale lavoro, che è l'avvocato Marco Sermarini, però non sapevamo nonostante ci conosciamo da anni, che è il rettore della scuola Chesterstone qui di Porto d'Ascoli da sette anni. Buongiorno Marco. Esatto, buongiorno Carlo. Ecco, noi ci siamo lasciati, che eravamo compagni d'avventura nella famosa corale Padre Domenico Stella di Sant'Antonio. Ecco, come mai questa scelta al di là della tua professione? Beh, è una scelta necessitata dal bisogno di dare un'offerta, un'opportunità educativa alle famiglie. La scuola che abbiamo fondato nel 2008 è una scuola fatta dalle famiglie, per le famiglie dove si segue un percorso educativo tradizionale e in particolar modo approfondito dal punto di vista dell'antica tradizione educativa. Quindi delle arti liberali, dello studio serio e soprattutto del rapporto con le scienze umane e soprattutto un ambiente che sia un ambiente familiare, cioè fatto dalle famiglie e per le famiglie perché i titolari dell'azione educativa sono le famiglie e quindi la scuola deve collaborare. E quindi una scuola così, onestamente in giro, non la vedevamo e quindi abbiamo pensato di farla noi perché l'ordinamento ce lo dà la possibilità. Ti rupo la domanda, noi in quanti siete a gestire questa scuola? È un bel gruppo di famiglie, di persone che collaborano, adesso numericamente faccio un po' fatica a dirlo, però insomma una ventina di persone che collaborano in maniera più stretta. Ma comunque l'attività è svolta anche personalmente dalle famiglie, dai padri, dalle madri che lavorano dentro questa scuola e anche quelli che si limitano semplicemente a portarci figli. Certo, è una scuola Marco a tutti gli effetti che riconosce giustamente quello che uno fa anno per anno? Allora, è una scuola libera in questo senso, ossia in Italia l'ordinamento è sostanzialmente fondato sulla scuola pubblica che occupa la maggior parte dello spazio e sulle scuole paritarie. Questa non è né una scuola pubblica né una scuola paritaria, ma si avvale della possibilità data dalla Costituzione e dal testo unico di leggi sulla pubblica istruzione di svolgere un'attività privatistica, ossia fatta direttamente dalla famiglia, che si chiama tecnicamente educazione parentale, ossia in maniera in gergo scolastico. Quindi i genitori si prendono la responsabilità dell'educazione dei figli perché questo è garantito dalla Costituzione e ne debbono dare segnalazione, comunicazione alle autorità e poi, ripeto, l'attività viene svolta o dalle famiglie direttamente o da chi può aiutare le famiglie e qui entriamo in campo noi. Ecco, è una scuola per, diciamo, bambini e ragazzi, da che fascia di età fino a che età? Abbiamo tre classi di medie, un liceo delle scienze umane completo in tutte e cinque le classi, opzione economico-sociale e abbiamo due anni di istituto professionale per formazione di operatori elettronici. Questo è interessante perché comunque sia un ventaglio abbastanza ampio. La scuola media è l'età un po' difficile della scuola italiana perché dopo la riforma degli anni Sessanta consideriamo che è rimasta sempre così la scuola media. Ci sono stati dei cambiamenti ma sono stati cambiamenti non di grande profondità e quindi è un po' accenerentola forse delle scuole attualmente e quindi abbiamo pensato di dare una proposta, siamo partiti da lì, poi ci abbiamo preso gusto e abbiamo continuato. Marco, prima di presentare questo evento per il quale sei venuto a trovarci, ti chiedo, questa scuola per frequentarla ha dei costi oppure una scuola libera? Sì, c'è una retta estremamente bassa perché i ragazzi delle scuole medie pagano 60 euro e i ragazzi delle superiori costano sui 100 euro, se non ricordo male. Quindi è una retta accessibilissima, bassissima, confrontata con altre che si sentono in giro. Ecco, nel corso di questi anni avete visto la crescita di quello che state facendo perché giustamente se siete arrivati a 7-8 anni vuol dire che c'è stato oltre al lavoro anche un riscontro. Sì, certo, ci sono una sessantina di alunni, l'impegno cresce, soprattutto notiamo che da 3-4 anni a questa parte veniamo contattati sempre più spesso da persone da fuori dalla nostra città, l'ultima volta sono venuti un gruppo da Roma ed è il terzo o quarto gruppo che viene a Roma, sono venuti da Pavia, sono venuti da Crema, sono venuti un po' da diverse parti d'Italia per vedere cosa facciamo e come lo facciamo. Perché si sente il bisogno di personalizzare l'educazione, di rimettere al centro la famiglia in questo momento, come soggetto educativo, è quella la cosa più importante. Abbiamo contatti, lo dico così incidentalmente perché anche l'evento di cui parleremo li vedrà anche i protagonisti, abbiamo contatti strettissimi con una scuola analoga alla nostra, possiamo dire che siamo anche i gemelli perché si chiama Chesterton Academy ed è in un soborgo di Minneapolis, nel Minnesota negli Stati Uniti. Siamo nati nello stesso anno, gli uni all'insaputa degli altri e ci siamo incontrati due o tre anni fa per la prima volta a Roma, abbiamo fatto un convegno insieme e quest'anno torneranno da noi. Noi siamo stati a trovarli lo scorso anno, scorsa estate, abbiamo passato 15 giorni di full immersion proprio con la scuola, sono venuti una trentina di ragazzi della scuola e hanno fatto 15 giorni di lezione con i loro colleghi americani, con i italiani americani, stavano molto belli. Adesso ripagate anche voi la visita. Sì, li ospitiamo per un paio di giorni qui a San Benedetto, nella speranza che poi possano anche fare loro un soggiorno più lungo da noi per vedere, appunto, fare la stessa esperienza che abbiamo fatto noi. Perché loro vengono anche per fare un giro turistico, insomma. Certo, allora parliamo di questo evento, Chesterton Gala, che si svolgerà dove Marco? Si svolgerà all'hotel Il Casale il sabato 28 marzo dalle 18 in poi. È un gala che noi facciamo per far conoscere la nostra scuola, per invitare i nostri amici, per condividere l'attività educativa e soprattutto anche per aiutarci nel reperimento di fondi perché essendo una scuola libera noi non riceviamo nessuno, assolutamente, dallo Stato non riceviamo niente ma è anche il nostro desiderio di rimanere liberi perché pensiamo che essendo una scuola nata dalle famiglie, nata dalla società, riteniamo che sia giusto che questa libertà ce la paghiamo direttamente. E in qualche modo, anche se lo Stato se sostenesse iniziative del genere risparmierebbe molto. Sarà una bellissima serata perché sarà una serata di gala in piena regola, quindi ai signori è stato richiesto l'abito scuro, come dicono... Si sto leggendo, le donne lo stesso, l'abito da sera. Sarà una serata divertente, è un gala a tutti gli effetti. Assolutamente. Anche se c'è questo fondamento sociale, famiglia e quant'altro per cercare, logicamente, per far crescere questo... Assolutamente, perché ci sosteniamo sulle nostre gambe, come si suol dire, quindi da qualche parte dobbiamo cercare... Marco, ti ringrazio, cercheremo di dare il nostro contributo come iante.it... Io vi ringrazio. ...con la nostra intervista, sperando che ti porti bene a te e ai tuoi colleghi. Grazie mille. Grazie a te Marco. Arrivederci.